Dove aver ottenuto prestigiose riconoscimenti, la mostra Cultura e Natura, l'eremitismo nella natura selvaggia del Parco della Maiella, rientra nella sua sede naturale e viene quindi reallestita nei locali appositamente ristrutturati presso la bazia di Santo Spirito al Morrone a Sulmona. L'appuntamento è per sabato 28 ottobre alle ore 16.30. La mostra itinerante si è classificata al primo posto in Italia nell'ambito di un bando emesso dalla Fondazione Telecom che l'ha finanziata. È stata ospitata nell'Editorium della Conciliazione a Roma nel 2014, nei prestigiosi Musei Vaticani nel 2015, dove ha collezionato in tre mesi oltre 300.000 presenze rappresentando un importante veicolo di promozione. Si tratta di uno spazio virtuale di comunicazione interattiva e didattica, polisensoriale ed emozionale, in cui viene proposto un punto di vista insolito e profondo che vuole incuriosire, stupire e allo stesso tempo fa rivivere nel racconto la spiritualità intensa delle comunità monastiche ed eremitiche nel territorio del Parco Nazionale della Maiella, uno dei luoghi di elezione sotto l'importante impulso di Pietro da Morrone e poi Celestino V, il Papa della Rinuncia. Dopo i saluti del Presidente del Parco Maiella, Franco Iezzi, del Sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, interverranno Lucia Arbace, direttrice del Polo Museale d'Abruzzo e lo studioso ricercatore Edoardo Micati. La benedizione e prolusione sarà curata dal Cardinale Beniamino Stella, mentre le conclusioni sono affilate al Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Lenini.